Avverto che la pubblicità della seduta sarà assicurata ai sensi dell'articolo 135 tercoma 5 del regolamento e la prassi applicativa di parire dell'aggiunta del regolamento 14 luglio 2004-26 giugno 2013, anche attraverso la web tv della Camera dei Deputati. Ne dispongo pertanto l'attivazione. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni e risposte immediate ai sensi dell'articolo 135 ter del regolamento, aventi ad oggetto questioni di competenza del Ministero delle Infrastrutture. Ricordo che per ciascuna interrogazione il presentatore ha facoltà di illustrarla per non più di un minuto, mentre il rappresentante del Governo ha non più di tre minuti per la risposta. Successivamente l'interrogante ha facoltà di replica per non più di due minuti. Passiamo quindi allo svolgimento dell'interrogazione numero 504-504 Lucchini, estensione dell'agevolazione cosiddetta sisma bonus anche agli edifici ricadenti nelle zone sismiche 4. Invito l'onorevole Covolo ad illustrare l'interrogazione ricordando che ha un minuto a disposizione. Grazie Presidente. Onorevole Sottosegretario, nel decreto rilancio all'articolo 119 si stabilisce che gli interventi volti all'adeguamento sismico per i quali è possibile ottenere la detrazione del 110% devono ricadere unicamente nelle zone sismiche 1, 2 e 3, esclusa quindi la zona 4. I risultati preliminari di uno studio che è stato effettuato dall'Università degli Studi di Padova relativamente alla regione del Veneto hanno permesso di evidenziare come, a seguito della possibile riclassificazione sismica regionale, si creerebbe l'opportunità per più di 340.000 edifici di accedere ai benefici fiscali connessi al decreto sisma bonus e al nuovo strumento super bonus del 110%. Chiedo quindi se e quali provvedimenti, con riguardo a quanto esposto in premessa, il Ministro intenda adottare per estendere le agevolazioni del sisma bonus anche ai cittadini residenti nella zona sismica 4. Grazie. Il Vice Ministro Cancelleri ha facoltà di rispondere per non più di tre minuti. Grazie Presidente. La legislazione antisismica italiana allineata alle più moderne normative a livello internazionale prescrive norme tecniche in base alle quali un edificio debba sopportare senza gravi danni i terremoti meno forti e senza crollare i terremoti più forti salvaguardando prima di tutto le vite umane. Con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri numero 3274 del 20 marzo 2003 sono stati adottati i criteri di nuova classificazione sismica del territorio nazionale basati sugli studi e le elaborazioni più recenti relative alla pericolosità sismica del territorio ossia sull'analisi della probabilità che il territorio venga interessato in un certo intervallo di tempo generalmente 50 anni da un evento che superi una determinata soglia di intensità o magnitudo. Sulla base di detta ordinanza le regioni a cui lo Stato ha delegato l'adozione della classificazione sismica del territorio con il decreto legislativo 112 del 98 e con il decreto del Presidente della Repubblica 380 del 2001 il testo unico delle norme per l'edilizia, hanno compilato l'elenco dei comuni con la relativa attribuzione ad una delle quattro zone a pericolosità decrescente nelle quali è stato riclassificato al territorio nazionale. Conseguentemente i comuni classificati come zona sismica 4 sono i comuni ubicati in zone meno pericolose ovvero in zone nelle quali la probabilità di verificazione di terremoti è molto bassa. Quanto al sisma bonus si è scelto di concentrare le risorse per favorire la realizzazione degli interventi edilizi antisismici sugli immobili localizzati in area a maggiore sismicità e cioè nelle zone 1, 2 e 3 la Regione del Veneto ha provveduto a classificare il proprio territorio sulla base dei sopra menzionati criteri. Pertanto la medesima Regione potrà anche sulla base degli studi citati nell'atto di sindacato ispettivo redatto dal Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile ed Ambientale dell'Università degli Studi di Padova procedere ad una revisione della classificazione sismica da sottoporre alla valutazione tecnica del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e conseguentemente per effetto della stessa consentire in ragione dell'ubicazione degli immobili in zone sismiche 1, 2 e 3 la fruizione del beneficio di legge, i vi compreso quello previsto dall'articolo 119 del Decreto Legge Rilancio. L'onorevole Cogolo ha facoltà di replica per non più di due minuti. La ringrazio per la risposta, signor Viceministro. Io auspico comunque che il Governo possa fare quanto possibile per estendere l'agevolazione del sismo bonus e del super bonus del 110% quanti più edifici possibili per la sicurezza e l'incolumità del nostro territorio. Grazie. Passiamo allo svolgimento dell'interrogazione numero 504 505 Gagliardi, ripristino della viabilità a seguito del crollo del viadotto di Albiano sul fiume Magra. Invito l'onorevole Gagliardi ad illustrare l'interrogazione ricordandole che è un minuto a disposizione. Grazie Presidente. Dunque l'8 aprile del 2020 crollava il viadotto sul fiume Magra. Questo viadotto collega due province in due regioni diverse, la Spezia e Massa Carrara. Purtroppo dobbiamo riscontrare che ad oggi, nonostante le promesse, nonostante i tavoli che sono stati aperti, non è ancora stata compiuta nessuna attività. Quindi abbiamo ancora i detriti nell'alveo del fiume che naturalmente adesso hanno molte preoccupazioni soprattutto in vista della stagione autunnale e quindi anche potrebbero causare gravi danni per le esondazioni, ma soprattutto non sono stati in alcun modo aperti i cantieri né per la realizzazione delle rampe autostradali che invece parevano essere comunque state accolte dal Ministero di Anas come idea per una viabilità alternativa provvisoria e né tantomeno una progettazione e un'apertura di un cantiere per la realizzazione del nuovo ponte. Quindi questo appunto crea molte preoccupazioni sia nelle aziende che nei cittadini perché io che sono spezzina per quanto riguarda la mia parte la viabilità è completamente in tilt già oggi che le scuole sono chiuse e che in qualche modo l'economia ha subito la battuta d'arresto del lockdown e quindi ha dei tempi non così tanto stretti e attivi come normalmente sono. Quindi chiediamo al Ministro, in questo caso al Vice Ministro, quali saranno i tempi per la realizzazione delle rampe, per la rimozione dei detriti e per la realizzazione del nuovo ponte. Grazie. Invito il Governo e il Vice Ministro a entrare a sua posizione. Grazie Presidente. Al fine di accelerare la ricostruzione del governo, si è provveduto a nominare il Presidente della Regione Toscana, quale commissario straordinario esenzio dell'articolo 4 del decreto legge sblocca cantieri. Il Commissario straordinario con propria ordinanza del 23 luglio ultimo scorso ha individuato ANAS quale soggetto attuatore dell'intervento, sia provvisorio che definitivo, di ripristino del collegamento fra Albiano Magra e Santo Stefano Magra. Entro la data del 7 agosto ANAS presenterà un cronoprogramma dei lavori. Per il giorno 11 di agosto è stata convocata la conferenza dei servizi per deliberare la realizzazione delle rampe per l'accesso all'autostrada A15 della dell'abitato di Albiano Magra e contemporaneamente il Commissario sta pianificando tutte le operazioni relative alla realizzazione del nuovo ponte, comprese la rimozione delle macerie. Per quanto attiene alla realizzazione delle rampe di acceso sul tratto autostradale A12 è in corso un confronto con la provincia e gli enti interessati per stabilire le modalità di realizzazione delle stesse, non trattandosi di intervento finalizzato ad agevolare la viabilità locale e pertanto allo Stato non compreso tra i compiti affidati al Commissario. Invito l'onorevole Silli che ha facoltà di replicare per non più di due minuti. Sì, grazie Presidente. È abbastanza simbolico il fatto che sia stata la collega Ligure della provincia di Spezia a introdurre e che a rispondere sia io che sono toscano. Noi abbiamo particolarmente a cuore questa situazione, signor Vice Ministro, perché insomma lei capisce. Il momento è quello che l'economia è in ginocchio. Se anziché aiutare la cosa pubblica aumenta i problemi, soprattutto per le imprese e per gli industriali, si va davvero da poche parti. Il traffico nella provincia di Spezia è veramente in tilt. Gli industriali chiedono a gran voce almeno le rampe. Io devo dire però, signor Vice Ministro, che io non so quanto sia stata azzeccata la nomina del Governatore della Regione Toscana come Commissario Governatore della Regione Toscana, che in questo momento pensa a tutto, tra virgolette, tranne che all'amministrazione della Regione. Ci sono le elezioni, c'è un cambio all'orizzonte. Insomma, quello che veramente mi stupisce è che ancora una pietra o una non sia stata rimossa. Io non ho le pretese che vengano fatti dei miracoli come a Genova e nella Regione Liguria, ma almeno i detriti io mi aspettavo che in questi ultimi mesi fossero spostati. Quindi, signor Vice Ministro, le rispondo in maniera pacata, senza fare colpi di teatro, semplicemente per fare notizia, però io trasecolo di fronte all'immobilismo, in questo caso non solo del Governo, ma soprattutto della Regione Toscana nella persona del suo Governatore in quanto Commissario. Grazie. Passiamo allo svolgimento dell'interrogazione numero 504-506. Alberto Manca, modalità di prosecuzione dei lavori di realizzazione della diga di Cumbina-Dovu nel territorio del comune di Orgosolo. Invito l'onorevole Alberto Manca ad illustrare l'interrogazione ricordando che ha un minuto a disposizione. Sì, grazie Presidente, grazie Sottosegretario. Riassumo velocemente questa diga in costruzione dal 1989, quindi sono 40 anni, una delle due dighe in costruzione in Sardegna. In particolare, originariamente la destinazione di questa diga era l'irregazione, cioè utilizzare l'acqua invasata ai fini irrigui, oggi magari potrebbe essere tranquillamente utilizzata ai fini potabili. La costruzione, come ho detto, risale al 1989, a cui segue tutto un iter travagliato. Si blocca sia nel 2007, revisione e riappalto dell'opera, poi nel 2011, ma successivamente nel 2013, a seguito di una grave alluvione, la Cleopatra, determinò questa alluvione gravi danni, in particolare verso la Vandiga e comunque per tutte le opere realizzate. Ad oggi quindi i lavori riguardano prevalentemente i lavori di fondazione e consolidamento e il Consorzio di Bonifica ha recentemente aggiudicato la gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria e progettazione. La problematica che segnalo è la richiesta di valutazione di impatto ambientale, poiché l'articolo, il punto 13 dell'allegato 2 del testo unico ambientale prevede la valutazione di impatto ambientale di competenza statale proprio per questo tipo di opere. Quindi chiedo se il Ministero ha interrogato sia a conoscenza di tutti i fatti esposti in premessa e quali siano per quanto di competenza i suoi intendimenti con riguardo al proseguo dell'iter previsto per la realizzazione e completamento dell'opera. Grazie Presidente. Relativamente allo stato di avanzamento dell'iter per la ripresa dei lavori di costruzione della diga di Cumbina-Dovu, si segnala che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti già nel mese di luglio del 2019 ha espresso il parere favorevole di competenza sul progetto di fattibilità tecnica ed economica. Al momento risulta conclusa la procedura di giudicazione della progettazione definitiva e non appena verranno acquisite le prescritte autorizzazioni si procederà mediante appalto integrato alla progettazione esecutiva e alla realizzazione dei lavori. Quando alla valutazione di eventuale assoggettabilità alla procedura via, ricordo che si tratta di valutazione di competenza del Ministero dell'Ambiente, il quale ha rappresentato che al momento non risulta alcuna istanza di valutazione ambientale relativa all'opera e che, qualora la stessa ricada nell'allegato 2 alla parte 2 del Decreto Legislativo 152 del 2006, qualsiasi modifica progettuale dovrà essere sottoposta alla verifica di associabilità via, ai sensi dell'articolo 19 del citato Decreto Legislativo. Ad ogni modo, nel caso di progetti di estensioni o adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali del progetto, il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha la facoltà di richiedere all'autorità competente una valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale procedura ad avviare ai sensi dell'articolo 6,9 del dichiarato del richiamato Decreto Legislativo. Grazie Presidente, grazie al Sottosegretario per la risposta. Come dicevo, è un'opera in costruzione da tanti anni, anche la finalità di quest'opera nel corso degli anni è sicuramente cambiata da un sostegno all'agricoltura, sicuramente può essere trasformata in un sostegno all'approvvigionamento idrico poiché in quell'invasamento non vi è alcun tipo di scarico, di depurazione o quant'altro. Ovviamente mi ritengo soddisfatto anche perché questo Governo ha garantito la copertura economica verso quest'opera stanziando ulteriori 20 milioni di euro proprio per la diga di Cumbidanovo. Rimango comunque preoccupato dal fatto che ad oggi non è pervenuta alcun tipo di istanza considerato che vi è stata sì una modifica progettuale e la mia preoccupazione da rappresentante del territorio è dovuta al fatto che semmai vi fosse la necessità di una valutazione di impatto ambientale questo rallenterebbe ulteriormente l'esecuzione dell'opera e questo sarebbe tutto a svantaggio del territorio. Grazie. Passiamo allo svolgimento dell'interrogazione numero 504-507 Braga, completamento della strada pedemontana Veneta e verifica della sua sostenibilità economica, ambientale e sociale. Invito l'onorevole Braga ad illustrare l'interrogazione ricordando che è un minuto a disposizione. Sì, grazie Presidente. L'interrogazione riguarda la realizzazione della superstrada pedaggio pedemontana Veneta al cui completamento era previsto nel 2020. Quest'opera era stata inserita tra le opere infrastrutturali da finanziare in base alla dotazione finanziaria prevista dal Ministero dei Trasporti con legge del 2013 di 2 miliardi e con un successivo intervento con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dell'economia di assegnazione di oltre 370 milioni. Nella realizzazione di questa opera ha visto negli anni un ritardo nell'esecuzione dei lavori, sequestri di alcuni cantieri per problemi legati a ipotesi di reato come utilizzo di materiali di cattiva qualità, miscela di calcestruzzo diversi da quelli elaborati e un ritardo sul cronoprogramma di esercizio. La richiesta è al Ministero se sia conoscenza di quanto esposto e quanto di propria competenza intenda intraprendere per vigilare sull'effettiva realizzazione della strada pedemontana anche in considerazione delle ingenti risorse statali che sono state da fondo citato nell'interrogazione. Grazie. Il Vice Ministro ha facoltà di rispondere. Sì, grazie Presidente. La progettazione, costruzione e gestione della superstrada a pedaggio pedemontana Veneta è regolata dalla Convenzione sottoscritta il 21 ottobre 2009 tra lati Consorzio Stabile esiste il commissario delegato nominato con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri numero 3802 del 2009. L'opera è di competenza della Regione del Veneto che svolge le funzioni di soggetto concedente. Secondo il progetto approvato, l'opera a caratteristiche di superstrada a pedaggio e ad ultimazione dei lavori si estenderà da Montecchio Maggiore a Spresiano. Per una lunghezza complessiva di circa 95 km, il tracciato previsto si sviluppa attraverso il distretto industriale di Tieneschio, Bassano del Grappa, Monte Belluna e la zona nord di Treviso. Sono previste tre interconnessioni rispettivamente con l'autostrada A4, A31 ed A27 e la sede stradale prevista è di due carreggiate ciascuna con due corsie per senso di marcia. Il 20 settembre del 2010 è stato approvato il progetto definitivo dell'opera da parte del commissario delegato e nel mese di novembre 2011 sono stati avviati i lavori. Il 15 febbraio del 2011 la società superstrada Pedemontana Veneta è subentrata all'ATSIS, firmataria dalla Convenzione Originaria. Nell'anno 2015 è stato rimodulato il piano economico finanziario sulla base delle indicazioni fornite dai soggetti finanziatori, cassa, depositi e prestiti e bei. Nel 2016 c'è stata la gestione emergenziale e le competenze inerenti alla realizzazione dell'intervento sono state riassegnate alla Regione Veneto. Dal mese di giugno del 2019 è percorribile il primo tratto di circa 7 chilometri dalla progressiva 23,6 al chilometro 29,3. Come ricordato dall'onorevole interrogante, per l'esecuzione di tale intervento è prevista l'erogazione di un contributo pari a 370 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 18 del Decreto Legge 69 del 2013. Per assicurare la bancabilità del progetto alla luce dei dati aggiornati, il contratto di concessione è stato aggiornato includendo una garanzia da parte della Regione del Veneto e l'obbligo da parte della società concessionaria di riversare alla Regione in ricavi da pedaggio. Concludo evidenziando che l'opera è di competenza esclusivamente regionale, che pertanto la Regione Veneto è tenuta ad effettuare tutte le verifiche anche di natura contrattuale. L'onorevole Braga ha facoltà di replicare per non più di due minuti. Grazie Presidente, ringrazio anche il Vice Ministro che ovviamente ha ricostruito una parte della vicenda che era già nota. Le cose che ci ha detto confermano una serie di problemi nella fase attuativa e di sviluppo di questo progetto, iniziato appunto nel 2009, peraltro con il ricorso anche allo strumento del Commissario, lo dico al Vice Ministro con il quale spesso ci siamo confrontati sulla bontà e l'efficienza del ricorso ai Commissari, a testimonianza che non basta un Commissario a risolvere i problemi, sicuramente non quelli della Pedemontana Veneta. Il richiamo finale che ha fatto il Sottosegretario alla competenza della Regione è un richiamo ovviamente corretto, anche se resta il fatto che il Ministero e quindi lo Stato ha stanziato per questa opera risorse molto rilevanti e quindi sarebbe auspicabile nelle forme e nelle modalità che riterrà il Ministero intervenire per quanto possibile sulla Regione che è soggetto concedente perché ci sia una vigilanza effettiva delle attività e della concessione effettuata, a tutela ovviamente sia della realizzazione dell'opera e dei territori che sono interessati da questa infrastruttura. Grazie. Passiamo allo svolgimento dell'interrogazione 5, 04, 508 Mazzetti, contenuti della trattativa tra il Governo e la Società Autostrade per l'Italia in ordine alle concessioni autostradali. Invito l'Onorevole Mazzetti ad illustrare l'interrogazione ricordandole che ha un minuto a disposizione. Sì, grazie Presidente e grazie al Sottosegretario per la sua presenza. Questo è un tema ormai che caldeggia le croniche nazionali da quasi due anni. Tutto è emerso, diciamo, in seguito all'abrutto accaduto che è successo con la caduta della Viadotto di Genova. Dopo molti mesi, quando il Governo a causa di differente votazione dei partiti della maggioranza che lo sostiene, non era stato in grado di prendere una decisione rispetto alla minacciata revoca unilaterale delle concessioni autostradali ad Aspi, Autostrade per l'Italia. Poi, nella notte del 14 luglio 2020, il Consiglio dei Ministri ha trovato una sintesi, almeno a pari dai giornali, e il percorso che avrebbe portato ad uscita progressiva di Veneto della Società Autostrade. Anche se poi, molto probabilmente, gli unici che hanno agevolato da questa discussione sono stati proprio gli stessi Veneto. Le croniche giornalistiche di quelle ore in discussione in Consiglio dei Ministri parlano di un confronto molto duro all'interno delle stesse maggioranze, come è apparso nelle croniche del giorno successivo. Il Capo del Governo stretto tra sospetti interni alla maggioranza, l'iditazione di Italia Viva e del Movimento 5 Stelle, che assomiglia ogni giorno sempre di più a un vulcano pronta a ribollire. Quello che è stato fin da subito noto da fonti governative al termine del Consiglio dei Ministri a Pallacso Chigi è che Aspi abbia accolto tutte le richieste del Governo. E Aspi insieme a Atlanti appare anche nella stessa notte, sempre da fonti giornalistiche, che si è stata intercorsa ben quattro lettere diverse al Governo, nelle quali man mano hanno accolto tutte le richieste, così pare da fonti giornalistiche. Visto anche il ruolo fondamentale che crediamo che abbiamo noi parlamentari, crediamo che se non ritenga anche il Governo necessario rendere pubblica la transizione con accettata da Aspi, nonché le quattro lettere che, come risultano le croniche di quelle ore, la dredesima società autostrade ha inviato al Governo, nelle quali ha man mano accolto tutte le richieste. Credo che sia un diritto di tutti i parlamentari che rappresentano il popolo italiano, grazie al voto dato da loro, avere notizia di questo ufficiale e qui vi lo chiediamo. Invito il Vice Ministro Cancelleri a rispondere. Grazie Presidente. In relazione alla procedura avviata nei confronti di Aspi, il Consiglio dei Ministri alla salute del 14 luglio scorso ha esaminato le due nuove proposte tra i transattive trasmesse alla medesima società e ha ritenuto di avviare l'iter per la formale definizione della transazione, ritenendo la revoca una soluzione allo Stato meno vantaggiosa per l'interesse pubblico, considerate le conseguenze che la stessa avrebbe determinato sul piano tecnico, giuridico, economico, finanziario ed occupazionale. Per contro la decisione assunta consente la gestione dell'infrastruttura autostradale con una più rigorosa determinazione degli obblighi in capo al concessionario e dei controlli del suo operato. Garantisce la tutela dei risparmiatori e dei lavoratori, prevede un'accelerazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria non effettuati negli anni passati, senza che siano però pagati dall'utenza o previsti in tariffa. Eleva gli standard di sicurezza, nonché l'effettuazione di nuovi e consistenti investimenti, ristabilendo, attraverso la previsione della complessiva riscrittura dell'attuale Convenzione, il giusto equilibrio fra l'interesse pubblico del concedente e quello privato del concessionario, evitando qualunque forma di ingiustificato vantaggio o privilegio a favore di quest'ultimo. Gli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle Infrastrutture, del Ministero dell'Economia e Cassa Depositi e Prestiti sono attualmente impegnati a dare corso alla decisione su queste due proposte transattive, ovviamente nel minore tempo possibile, nonostante l'evidente complessità dell'operazione. L'analisi del nuovo piano economico-finanziario e la riscrittura della concessione derivano dal trasferimento, in data 23 luglio, da parte di ASPI del nuovo piano economico-finanziario, sul quale gli uffici stanno lavorando. Il Ministero delle Infrastrutture e anche il Ministero dell'Economia stanno verificando i contenuti di questo documento, la sua corrispondenza ai contenuti della proposta e stanno individuando le priorità di investimenti e di interventi di manutenzione dei prossimi 24 mesi. Ovviamente di tutte le attività svolte si provvederà a dare ampia comunicazione tempestiva e trasparente alle Camere e all'opinione pubblica. L'Onorevole Mazzetti ha facoltà di replica per non più di due minuti. Sì, grazie Presidente e grazie al Sottosegretario per la risposta, anche se non mi trovo assolutamente affermativa in quanto abbiamo chiesto noi. È chiaro che da fonti giornalisti, e sempre ripeto perché noi parlamentari molto spesso abbiamo notizie da fonti giornalisti e non direttamente dal Governo come dovrebbe essere, abbiamo saputo che questo accordo è stato fatto, così è stato detto. È stato fatto e ci sono trascorse anche delle lettere. Queste quattro lettere che la Ministra De Micheli rammenta nelle croniche del giornale il giorno dopo, di cui noi volveremo vedere copia. Proprio di queste che noi ho chiesto in questa question time di avere, perché è fondamentale avere entrambe le copie per capire come è successo. E mi dispiace contraddirla, ma credo che con questa operazione, almeno da quanto si legge da fonti giornalisti e sempre ripeto, non mi sembra assolutamente che questo accordo sia andato nella direzione di un miglioramento e di un'agevolazione nei confronti dei cittadini, delle imprese e di tutti coloro che viaggiano sulle autostrade e anche sulle manutenzioni delle stesse, ma che sia andata quasi esclusamente a vantaggio invece della famiglia Benetton. Soprattutto il Movimento 5 Stelle in questi due anni ha fatto, diciamo, una battaglia giustizialista nei confronti di questa famiglia, diciamo, di imprenditori, ma soprattutto della società Atlantia, di cui poi Benetton è socio, non è completamente la famiglia Benetton, invece di pensare a avere un giusto, diciamo, lavoro nei confronti di chi gestisce le autostrade, di come vengono gestite, senza considerare tutto il resto, perché loro si gestiscano le autostrade, ma ci dovrebbero essere anche dei controllori che dovrebbero essere dal Ministero delle Infrastrutture. Quello non è successo, non sappiamo il motivo e comunque prima di, fra virgolette, cantare vittoria, ripeto, soprattutto il gruppo Movimento 5 Stelle forse dovrebbe chiarire bene la situazione e rendersi conto che invece di fare un torto alla famiglia Benetton, come sempre è stato dichiarato da loro, ha fatto un torto ai cittadini italiani e basta. È un fatto di fare un guadagno proprio a Atlantica e a Benetton e questo basta vedere l'andamento delle borse della mattina dopo alle 9.06, cosa anche questa molto particolare, di come sono andate le azioni. Se è così concluso lo svolgimento delle interrogazioni, è risposta immediata. L'ordine del giorno reca il...